Oh mio Dio Ma dove sono entrato? Che cos'è questo posto? Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Quest'oggi proprio come settimana scorsa entrerò nei vostri mondi che mi avete spedito tramite Realm Come vedete ogni volta che faccio un video mi arrivano un milione di inviti Sono tantissimi e io voglio ringraziare ovviamente tutti quanti Quindi state apparendo tutti quanti nel video si vede il vostro nome si vede il vostro Realm Io li andrò ad accettare tutti quanti adesso come vedete Però nel video alla fine si vedranno soltanto quelli che hanno un vero e proprio mondo Quindi attivo Qua sono sicuro che infatti lui per esempio ce l'ha scaduto Quindi non posso accettarlo non posso entrare se il mondo è scaduto Nello scorso video vi avevo detto di lasciare 10.000 mi piace Per un altro video in cui sorprendevo i fan entrando nei loro mondi Quindi mi raccomando superiamo i 10.000 mi piace anche per questo video E adesso entriamo nel primo Fredrikraft c'è scritto paese abitato me lo auguro Perché spesso e volentieri vengo invitato in mondi dei fan dove non c'è nessuno Non c'è niente costruito E cosa devo fare? Sto lì come una pera cotta? Ed eccoci qui Vediamo un pochettino Oh ok sembrerebbe che sia un mondo costruito Non so cosa ci sia però Fatemi dare un'occhiata È una farm e basta Allora qua c'è un piccolo laghetto E qua invece cosa c'è? Candle non ho un mondo bellissimo perché ho appena iniziato Questo mondo ha all'incirca una settimana Ah ok 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 perfetto Io sono troppo curioso ragazzi Ogni volta che vedo qualcosa voglio esplorarla Va bene allora ti darò del tempo E poi tornerò qua dentro per vedere che cosa hai combinato Ok questo posto sembra decisamente molto più abitato Oh mamma mia No non ci credo Ragazzi Penso di aver capito che cos'è quello Quello potrebbe essere un drago blu che sa simboleggiare la mia skin Tra l'altro ok non c'è nessuno online Però gioca molta gente qua Potete vedere i loro nomi in alto a destra E oh mio dio è un drago blu Qua ci sono i loro banner I banner di ogni casata Qua c'è un maialino Il gatto Il famosissimo gatto maiale Ok lasciamolo chiuso perché altrimenti rischia di scappare Ok qua ci sono tantissime costruzioni molto belle Purtroppo non posso andare in creativa Qua hanno fatto un bellissimo templio Ok in stile greco Il portale A me piacciono tantissimo i nuovi portali con i blocchi nuovi Un mulino a vento Una torre gigante Oh cavolo Vediamo posso prendere un blocchetto della loro legna Per scrivergli che sono passato di qua Quindi 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 dove posso mettere il mio autografo Ma guardate qua che posto super bello Pieno di case mi piace tantissimo questa miniera Kendall è stato qui E gli faccio un cuoricino So che vi piace quando firmo i mondi dei fan Ok qua credo stiano facendo una farm Probabilmente sì Guardate è tutto così ben suddiviso in categoria Ma quella torre è gigante È tipo un orologio E lassù ce n'è un'altra Eeeh vabbè Forse è una mob farm No ma sono fornaci Ma sono tutte fornaci Scusate ma perché hanno fatto una torre di fornaci Che costano 8 blocchi ogni fornace E qua che cosa c'è una strega Ok qua stanno facendo qualche farm Probabilmente non lo so di shulker o qualcosa del genere Grazie strega per avermi rallentato Tanto devo soltanto fare un tour di un mondo Ma è un ascensore che cos'è Oh no 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 Ma no Sono bloccato Ho detto che non mi ucciderai Ti ammazzo a pugni piuttosto Ecco fantastico Ok ragazzi bel mondo bravissimi Vanilla insieme 2.0 Beh questo sono curioso di vederla Eeeh ok mi sa che è un work in progress Ci stanno ancora lavorando molto probabilmente Guardate là il cimitero Ma no ragazzi non potete mica morire tutte queste volte eh Mi raccomando toglietelo un po' Ed ecco qua tutte le skin Ok credo che sia un work in progress Ah ma c'è un fan qua Eeeh ciao Ehi Ehi Qualcosa mi dice che non è al computer Gli potrei fare uno scherzo Vediamo che cosa posso fare Lo potrei chiudere all'interno dell'ossidiana Faccio uno scherzo a un fan Lo chiudo qua dentro Oh Eeeh Ciao scusa Non stavo facendo nulla Eeeh Nooo Con l'ossidiana volevo fare un portale Perché pensi male Ciao Non so per quale motivo ragazzi Non sta reagendo Ai miei saluti Probabilmente non sa neanche come si scrive Se un minecraft magari è nuovo Eeeh beh Comunque le costruzioni sono molto belle Per essere un mondo che sta Che si vede appunto Che è stato appena creato Che cosa è successo qua Cosa è successo qua Questa è TNT Questa è opera di TNT E di un pugno in creativa Ne sono sicuro Mannaggia ragazzi Io volevo fargli uno scherzo E sono stato beccato in flagrante Ah Questa è la casa di Zio Che è la casa bianca Ah Ma gioca con tuo zio allora Regole Se griffi qualcosa vieni bannato per un giorno Se bruci qualcosa per due Ma sei Alex Beh Sì in realtà sì Però non so Secondo voi ha capito che sono Kendall Guarda Ti faccio vedere Aspetta vieni qua Ehi Seguimi C'è pure la mia skin Sono Sono lui Questa gigantografia di me stesso Ok Questo mondo sembra essere Un pochettino più costruito Come avete fatto a fare tutti questi beacon block Che io ci ho messo dieci anni di vanilla Per prendere tutti questi blocchi È impossibile Costa troppo Oh cavolo Aspetta Questa penso sia una delle costruzioni più geniali del mondo Non ho mai visto niente del genere Hanno creato una torre con tutti i blocchi di Minecraft Eh ma questo mondo è grandissimo Guardate quante costruzioni ci sono E sono pieni 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 di beacon block Ci sono beacon block ovunque Non so perché Non so quanto ricchi siano questi Però guarda qua Guarda quante case ci sono Eh pure la pizza Scusate ma quante persone abitano questo mondo Case su case su case Tutte case su case blocchi Questo è un castello probabilmente Qua invece ci sono delle skins Skins di youtuber Dov'è la mia? Dov'è la mia skin? No No ragazzi non mi dite No Non c'è la mia? Dov'è la mia skin? No Perché non c'è la mia skin? Scusa Beh voglio sperare che l'abbiano fatta da qualche altra parte Se no ci resto malissimo Sono l'unico che non hanno skin Ma qua hanno griffato tutto Oh però hanno fatto il mio castello E beh questo si Hanno ricostruito il castello che ho fatto io Nella Candy Craft E anche l'albero di Natale Cavolo ma perché questo albero di Natale è più bello di quello che voglio nella Candy Craft? Allora facciamo così Chiunque ha costruito l'albero di Natale mi stai simpatico Ora scrivo perché Non c'è la mia skin tra gli youtubers Firmato Kendall E gli metto pure una faccina triste Questa è la Cloudyland Oh mio Dio cosa sono tutti questi cartelli? Leggi le regole altrimenti scatta il band permanente Ma saranno centomila No facciamo che io provo Oh mio Dio Ma dove sono entrato? Che cos'è questo posto? Dove sono? Allora La mia skin è bellissima I colori sono un po' sbagliati Dovresti utilizzare questo tipo di blu Però tutto il resto è fantastico Ma c'è la skin di bella faccia Non so per quale motivo abbia una corona Bugs Bunny ciccione Un casino di scritte Kendall Per te la free Kendall Kendall Ma che cosa? Ma cosa succede? Dove sono? Per quale motivo qua c'è una mucca appesa a un cavo che salta? Ma questo mondo è tutto fatto in creativa Hanno fatto tantissime costruzioni in creativa Sono troppo belle Ah ok ho capito Sans O c'è bella faccia con un cuore Bella faccia qua dentro O c'è un percorso con le litra Presumo Due persone sedute Non so chi siano Oh 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 Sbaglio o stavano iniziando a fare un castello qua Eh sì Questo sembra un misto tra la vanilla insieme e la candy craft Guardate C'è la torre della candy craft Le mura della vanilla insieme E la casa di bella faccia È tipo un misto tra le nostre tre vanilla Che figata Eccola infatti c'è il castello Cavolo ma vi è piaciuta proprio tanto la costruzione del mio castello eh L'avete rifatta tutti quanti praticamente Bravissimo Il glorioso elmetto in ferro Sai cosa? Dono Oh Ah ma Sì online 6x636 Ciao Ok Scusa mi sono preso un elmetto in ferro Spero non ti dispiaccia Molto bello questo castello ragazzi Molto molto bello E ovviamente ha messo l'elmetto in ferro sul trono dell'imperatore Complimenti Ottima scelta Veramente un'ottima scelta Rende proprio la stanza molto più carina Vediamo cos'altro ha fatto Allora la Ah questa è una costruzione delle build battle Ha fatto la lapide con scritto rip Con lo zombie che esce fuori Qua invece c'è Steve Che schiaccia la testa di un creeper di lava Sono curioso Vediamo dove ci porterà questa ferrovia Vieni 6x636 Seguimi Ed eccoci arrivati alla Fermata della Stazione Salve devo pagare il biglietto Uuuuh Ha schiavizzato anche lui tutti Cioè volevo dire Ha reso tutti questi villager Suoi collaboratori Come ho fatto io Nella mia Candy Craft Silk Touch Ottimo Vieni facciamoci Facciamoci una foto Vieni qua No vieni Perché ti spaventi Vieni Ehi Ma ti spaventi Ma scusa Aspetta Non vuoi Vabbè Se non lo vuoi vado via Cioè tranquillo Allo spawn c'è una cassa per te Andiamo più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Bello questo templetto Dello spawn Per Kendall Non l'avevo neanche vista Protezione 4 Grazie 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 Sharpness 3 Grazie 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 Ovviamente Ragazzi Il metto migliore del mondo Ah c'è anche un libro Prendiamo tutti i regali E ora leggiamo il libro Ciao Kendall Ciao Kendall L'imperatore Siamo Marco Pin E 6x6 36 Ti abbiamo fatto dei doni Come avrai visto nella cassa Davanti a te c'è il nostro villaggio Dove abbiamo allestito una mappa del nostro territorio Se prosegui sulla ferrovia Trovi una farm di villager Nel Nether abbiamo costruito una mini base Per stare al sicuro dei mob E anche un sentiero Che conduce al portale dell'end Con una super farm di enderman Speriamo ti piace il mondo Wow Grazie mille È veramente super super bello Mi piace un botto Bellissimo Un polipo Il kraken ragazzi Il kraken che esce fuori dall'acqua E quello è il campo di Quidditch di Harry Potter Sì 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 Lo riconosco bene Wow È fatto molto molto bene Complimenti Ciao Kendall Sono super contenta che sei qui Spero di essere online Segui i cartelli E rompili man mano che li leggi Eh no Non sei online Mi dispiace però Sono all'interno del tuo mondo Vediamo un pochettino E quindi Sei qui Kendall Al prossimo cartello dovrai lavorare Ma cosa No Ehi Io non entro nel mondo dei fan per lavorare Ma che dici Il tuo compito è farmi felice Come dici Ah sì certo Scrivi il tuo nome qui sopra Ah ok aspetta Bene allora scriviamo Kendall È stato qui E ti faccio anche un cuoricino L'hai fatto? Beh Visto che ci sei Qui dentro ci sono i miei animali Ok Molto simile Tipo I mondi di bella faccia Fino ad ora Questa è la casa di gattina carina Che bello È sempre bello Esplorare tanti mondi diversi Perché ognuno ovviamente Gioca a Minecraft In modo totalmente diverso dagli altri Ognuno ha la propria creatività Le proprie idee La propria fantasia E mi stavo per rompere le ginocchia Mappa della vanilla Ah ok C'è anche l'itinerario Ovviamente ragazzi È il metto in ferro Per forza Un altro è il metto in ferro Ormai i vostri mondi sono Ancora il metto in ferro I vostri mondi ormai sono composti Principalmente dal metto in ferro Bravi Sono orgoglioso di voi E qua presumo ci sia il portale del nether Sì infatti Un po' piccolino Potresti farlo un po' più grande Ok ragazzi Resta l'ultimo mondo Orso matti loca Io spero che questo mondo Sia pieno di costruzioni Di figate Perché è l'ultimo Almeno chiudiamo in bellezza Eeeh No È la seconda volta Che trovo un mondo Con un uovo Di drago Messo così A caso Anche nello scorso video Avevo trovato Oh però c'è una cesta Cosa c'è in questa cesta? Niente Perfetto Sono stato trollato Da un fan Beh ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate tanti Mi piace Oggi ho fatto molte sorprese A voi fan E volevo anche fare Un piccolo scherzetto Però non mi è riuscito Dal vostro channel è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Mi raccomando Continuate a mandare I vostri mondi Nel mio realm Ciao